funziona là dentro come funziona lo tanto continua a ritenga la scala adesso abbiamo tutto il caricatore e la scala di partiretto viene giù di brutto torna giù un pochino io sono arrivato l'azione è questa l'azione è questa l'azione è questa l'azione è questa la manovra fuori la barella ricordati che al piano di sotto c'è una finestra la piattaforma è privata l'azione è la la l'azione Noi possiamo andare a chiudere o a aprire, ma lo spiamo, diciamo. Ci siamo, appoggio, dai, perfetto. Ho visto come critici. Di fatto stavo in mano con la parte elettrica, che non è una... Marco, tu sì, grazie. ... il corridoio e la community. Questo ovviamente ci darà la possibilità di lavorare sempre in modo più...